Buongiorno a tutti, sono Simone Carbonara del team Martinelli Remax Stella Polare. Oggi ci troviamo a Turi e precisamente in via San Vito, a due passi da via Putignani. Ti mostreremo una soluzione indipendente con posto auto riservato qui alle mie spalle. Seguitemi! Grazie a tutti! Il nostro tour finisce qui, su questo spento terrazzino. La casa è stata ristrutturata un anno fa ed è pronta per essere abitata. Oppure si può realizzare una spenta struttura ricettiva. Al piano terra abbiamo un altro mini appartamento. Se volete scoprirlo, chiamateci.